Il reality and fashion show, programma ideato da Emanuele Sicignano, la cui direzione artistica è stata affidata a Lucio De Filippo della DFL Fashion e programmato sulle emittenti regionali, sarà trasmesso anche da Cilento Channel. Tanti gli ospiti presenti in studio, tra cui Luigi Aoletta di Impero Couture, che ha incantato il pubblico con le sue creazioni, in giuria il giornalista Antonio D'Addio e il fashion blogger Armando Sanchez. Nel parterre Lina Lamura, referente Miss Italia e Vera Ceriello, organizzatrice eventi, ospite musicale e il cantautore Lino Rosi, partnership l'Accademia di Moda e Design di Maria Mauro, tre le stiliste in gara Teresa Maiolo, Anna Capillari e Anna Maria Mazza, make-up artist Nunzia Fabozzi, fotografo ufficiale Gianluca Bileif. A condurre il giornalista Sergio Vesicchio e la modella Alessandra Dorsi, la trasmissione è stata realizzata grazie agli sponsor AE Estetica Napoli, ARSPA di Vincenzo De Cicco, convergenze, ristorante e pizzeria alla Basilica Caffè, Baranna Pestum, la bottega del gusto, libertà di stampa, Mac Hotel, B-Rent, vendita e noleggio auto. Sintonizzatevi stasera sul canale 636 del Digitale Terrestre e in streaming alle ore 21.30 su Cilento Channel per una straordinaria puntata del reality and fashion show.